Il nemico assembla un proiettile d'oro. La gente ha ricevuto un proiettile. 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 Sistema attivato. Sistema sospeso. Sistema riattivato. Malfunzionamento del sistema. Sistema ripristinato. Sistema riattivato. Sistema riattivato. Torretta inceneritrice nemica rilevata. Sistema riattivato. 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 Grazie a tutti. 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 Sistema ripristinato. Sistema sospeso. Grazie a tutti. Difensore nemico rilevato. Agente fuori combattimento. Malfunzionamento del sistema. Sistema ripristinato. Grazie a tutti. Torretta assaltatrice. Torretta assaltatrice. Sistema nemica rilevata. Sistema sospeso. Sistema. 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 Sistema.